Bella a tutti raga Allora, sono qua innanzitutto per salutare Bikin Boninacana TV Il Tempio del Gaming Demo Stevavice, Mulanakie Passione e Massimo Muggia Al Kogan Salutare Midori, mia sorrina Flo Emilio Tesorini, le mie dolce metà Tutti i ragazzi e ragazze che mi seguono Un bacione, grazie a tutti veramente Stiamo crescendo e stiamo crescendo insieme Allora, vi faccio vedere il mio nuovo acquisto Vediamo Sul passato ragazzi E' i mini droni Eccolo qua il mio bambino D'ora in poi farò la collezione dei mini droni ragazzi Guardate che bellino Lo faccio vedere acceso tanto per capire un po' E' carino Ho già preso le batterie di ricame Ne deve arrivare un altro Poi ne prendo un altro ancora Non neanche i pezzi Guardate che figata No, si è acceso Ok, ecco, si è acceso Vedete le luci di posizione Dietro, avanti Bellissimo Con la telecamera davanti Spettacolare Ho preso lui Poi dentro la confezione troviamo Le eliche di ricambio Quel cosino per toglierle Il cavetto per caricare le batterie Poi ho preso Due pile di ricambio E le eliche di ricambio Bianche e nere Vedete Faccio vedere il telecomando Una figata pazzesca Si accende E così Qua vi dice I numeri Guardate Adesso li tocco Quando si accende Qua vi dice Quanto è carica la batteria Il drone Come si chiama E tutto quanto Questo qua È un drone Della La scatola Esistono Tre tipi di questi qua Quello con senza fotocamera Questo qui è quello Con la fotocamera Il 2 megapixel Ma non c'era Io ho preso quella Con la Cioè Con la 2 megapixel In HD Questo qui È l'edizione normale Guardate che bello Preso da model toy A mezzo C'è sotto l'indirizzo E che dirvi ragazzi Niente Non vedo l'ora di provarlo Giochicchiarci un po' Così posso farlo Volare anche in casa E Niente ragazzi Questa è la mia nuova passione Mini droni Poi bene Mini macchine Tutto mini Ok ragazzi Questo è l'altro Mi nuovo acquisto Niente ragazzi Vi saluto Saluto tutti Mi raccomando Siete presenti Sempre attivi Oggi due dirette E Che altro dirvi ragazzi Farò 5 minuti Con un charter E vi darò le mie impressioni Ok E ci vediamo alla prossima Ragazzi Mi raccomando Iscrivetevi al canale Un bel mi piace Un bel commento Avete sempre risposto Andate sulla pagina facebook A mettere un bel mi piace Sul gruppo di facebook Mi raccomando Bella a tutti raga Ci vediamo alla prossima Ciao belli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti